Non possiamo non prepararci a un piano B, ma sono convinto che Teat e Servizi e il dottor Di Iorio abbiano le carte giuste per andare avanti. È quanto dichiarato dal sindaco di Chieti, Diego Ferrara, all'uscita dal tribunale di Chieti, dove questa mattina si è svolta l'udienza di omologa per il piano di concordato. L'udienza di questa mattina è stata scandita dalla lettura dei documenti lasciati da quelle associità che hanno proposto ricorso all'omologa, una memoria difensiva dell'avvocato dell'ente, il dottor Montanino e ovviamente le precisazioni del liquidatore Luca Di Iorio. Tutto si è svolto a un clima di assoluta serenità. Io come sindaco reputo che Teat e Servizi in questo momento abbia le carte. è un mio discorso personale che ho più volte, attraverso queste dichiarazioni, ho più volte lanciato il mio cuore oltre l'ostacolo. Ritengo che Teat e Servizi abbia le carte in tavola per poter andare avanti con il piano concordatario. Basta pensare che il liquidatore, da quando si è insediato in pochi mesi, è riuscito nel 2022 a portare a termine, redigere tre bilanci che non erano stati fatti precedentemente, ha pagato tutti i fornitori e ha, al 31 dicembre del 2023, decretato un utile per l'azienda di 250 mila euro. Potrebbe sembrare nulla, ma voglio ricordare che è il primo risultato utile da tanti anni, probabilmente dal momento stesso della nascita di Teat e Servizi e non è neanche iniziato il periodo di risanamento concordatario nel caso venisse accolta l'omologa. Quindi noi come Comune non possiamo non prepararci anche a una soluzione B nel caso che Teat e Servizi dovesse fallire su sentenza del giudice. Però io personalmente ritengo che Teat e Servizi e il dottor Luca Di Orio abbiano le carte giuste per poter andare avanti.